E mi parla e mi dice, guarda, noi abbiamo bisogno di una che ci porti su, quello di cui abbiamo bisogno. Dice, in particolar modo della munizione e delle armi. Te la senti di fare? Dico, sì, lo faccio. Lo faccio. Allora, c'erano i fratelli Ferrari che avevano una macelleria vicino al cinema del Berto. Due fratelli erano in montagna, nei partigiani, nel distaccamento Don Pasquino. E uno invece erano i fascisti. Ho detto, beh, quando è finita la guerra, che ci fate, posso fare il disperdio? E lì perché gliel'abbiamo mandato noi, sta buona. Dice, lui ha avuto la fortuna che era fascista, dice, l'hanno preso volontieri. E dice, e ci porta, ci manda fuori delle armi. Tu, quando ti diciamo dove devi andare, vai che lui ti consegna della roba. Allora, il punto di riferimento era il diurno di Reggio. E' un albergo che è di dietro le farmacie riunite. C'era un albergo lì, che credo che adesso si chiami Reggio, non lo so. Comunque lì c'era un albergo. Io entravo lì e l'aspettavo, lui arrivava, mi dava un pacchettino, ci salutavamo e andavamo. Normalmente erano delle rivoltelle che dava. Io, se le rivoltelle erano due, le portavo da solo, perché avevo un bel petto, in mezzo al petto faceva da porta rivoltelle, che era un piacere. Poi me le legavo alla vita, strette strette alla vita, no. E in bicicletta andavo fino a Ceresola. Andavo fino a Curada, li portavo fino a Curada, perché avevo l'appuntamento con Marco, Sergio Beretti si chiamava Marco, gli consegnavo la roba, poi tornavo indietro. Alle volte c'erano delle palottole, alle volte portavo su del sale, eccetera. Un giorno, la Maria Montanari, sua cugina che lavorava alle Reggiane, era riuscita a recuperare un radiotrasmittente di un aeroplano. Ma era grande così, sì, era alto così, grande così, così. Era a casa mia, intanto, intanto, siccome sono quelli che fanno pipì, pipì, con il coso, no, non era la radiotrasmittente normale, cioè che ci sono adesso. Era, non so come si chiamano, quelli che c'è il bottone che schiacci e così. E che durante la guerra era quello, praticamente, in dotazione agli eserciti. Allora, c'è da portare su in montagna. Come facciamo a portarlo su in montagna? Ci mettiamo d'accordo io e la Maria, che facciamo in questo modo? Io, invece di andare su in bicicletta, vado su in treno, metto la bicicletta su, vado a prendere il treno alla Reggio Ciano, no? Metto la bicicletta su il vagone e poi io salgo. Però, prima, io salgo e vado in uno scompartimento. Maria arriva, guarda dove io mi colloco, entra, io e lei non ci conosciamo, mette davanti a me, in fondo, no, il pacco, poi si prende su e va via, niente. Perché? Abbiamo detto, se lo trovano, siccome sapevamo che alle volte facevano, venivano a guardare dentro, no, nelle valigie, eccetera, di chi è? Nessuno lo sa. E viaggio bene fino a San Polo. San Polo, circondano il treno, ci sono i fascisti, la polizia fascista, che va a guardare, ha guardato dappertutto sotto i sedili, dentro ai pacchi, dentro alle valigie, e appertutto non ha guardato il mio pacco, che era coperto con dei giornali, era legato, coperto, non l'hanno guardato. Comunque, io, quando sono arrivata a Ciano, ho messo la bicicletta in stazione, poi ho preso l'Inza, sono andata su, poi ho chiesto a loro di venire a prendere questa maledetta radio, perché da Ciano a Ceresola ci sono tre o quattro chilometri, cinque, dentro a Linza, non è una cosa simpatica con quella a fare, però non potevo passare il posto di blocco. Ecco, ho risolto il problema in quel modo.